Ello, il men, affinus, il libro, il tre, orge, il don, si, 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 si in the grand room of the rest of the country. Mary, the female, the young, the old, and live all over the world, all over the world, in Germany. And we didn't, Brooklyn checked it, it's a levee in La Andria, and we didn't, Brooklyn, yeah. I can't, oh, enter it, have a book, achieve it, achieve it, from dancing, and have a feeling, and levee me, being a toast. The question is, The question is, that women, the young, the young woman, and she says, e niente e niente e niente e niente e niente Signor Zapatero se non so raffa i miei zapatos a miei bisogniti come il che a freddo la gente con la terra però il caso è salti le cose perché la gente che sta sin lavoro e con siglos e non termino di lavorare a mia stanza in una situazione perché hai che buscate se è stato un gobierno se non è una finca molto grande e meti a xendalli a lavorare e poi non tiñan sempre tenere però si è che vai o carà e mi coi alli a Zapatero perdonami per lo venti e che opini che non f*** non abortare non hai che f*** con dios con dios visto nel monte del gordo guai 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 del paraguai del carri del carri me mola massa me mola massa me mola massa con dios con dios con dios con dios con dios che che tal che tal che tal che tal con dios con dios con dios con dios con dios con dios che 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 mi che 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 e andare con loro di passeo e andare a tutti i siti con gasto pago e andando bene, così non si arregla il mondo. Come si arregla il mondo? Empezando da parte, a una casa si empeza da parte, non da parte di tutto. E allora sempre andano per il teatro. E hai che mojarse per vivere, per lavorare, e hai che tenere dignità. Non dicere, vamos a fare, vamos a fare, e non fare nulla. Le cose non si dice, si fanno e niente più. Se già stavano nel governo, non sarebbe niente poveri, tutti a lavorare. E tutti ieri che stavano nel governo, tutti iban a ganar, come un obrero qualqu'era. A ver se così, saperebbe lo che era ganar poco. Non si preoccupare per i que stavano vivendo mal, passando mal. E poi vengono imposti, vengono imposti. E che non pagano più che i poveri, che i riconi stavano estretto di imposti. Non pagano nulla, i vivono che sono due giorni. E ai futbolisti, che le diria? Che a plantar, a plantar patatas. E se non, che ripartano il dinero che gano con i poveri. O a fare in esi siti dove hai tanta poverza, hospitali, escueli, veteranguas, solo dove stavano i giorni, ben gastao. E non così, di qualche modo. Però lo che passa è che la gente si acostume a vivere bene, perché si matano i politici per andare a tirare del tetto della vaca. Quando la vaca da lecce, tutti vanno. Quando non la dà, vanno altri si tirano. E' questa è una porcaria. Non si un vergüenza, eria. Non si un vergüenza, non si un vergüenza. Non si un vergüenza, non si un vergüenza. Non si un vergüenza, non si un vergüenza, Ahi mattina una pena, non puse a considerar, che stava fino a spettare, non s'arriñe suele il mar. Trai la la, trai la la, trai la 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 la. Eh, com'era punto dolore. Allo vai o jeteiro, por detras do piena, allo vai o jeteiro, se pode desbailar. Quanto se vestiu este? Desde que meti hasta agora. Quanto son? En diciembre 86, el 22 de diciembre. Ciudad de la loteria? Que vale para... Non me dame la quimera nunca lo tío. Vamos a charla. Vamos a charla. Usi, 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 usi. Por que? A ver. A ver, a ver si tu es mañana, venga. Venga. Venga, vamos. Ai que es rubles, que es que no trago material. Ah. No trago. No trago. No. No trago el fruto. No trago el fruto. Supongo que no trago el fruto. Por eso por eso con la máquina. no questa è la nuova non trovo l'altra mano che bella che ragazzi che bella che bella che bella che bella noiii come è che la linea? che è l'interno? questo non è il caso oltre a me, oltre a me No se si cae. Ha risolato al principio. Ah, è tanto bella. Non è tanto bella? Mi accanto un alcove. Si tu mi chiesa erano bella, io ti ne stia che prendere due volte, osea, da ruora mia. Ah, con internet, non te conozzi la gente. In internet, le dice una signora. Fala di comprare un alisco per internet. Io si mi libere, io vorrei dar plata e vedere come sta. internet se veng... se vengono un angoletto e poi vengono a coletà e non è l'alternet è l'alternet sa cosa come si mette una gente con internet e poi si vengono che mi marcia io? in Doel? in Doel? io ho pregontato in Doel? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.